Musica Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Grazie Sì capitano Un momento fermo Grazie 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 Datemi i progetti Voi siete l'assassino, giusto? Dovete fermare Cesare Vi aiuterò Lasciate che vi ci conduca Grazie A te vuole finire esercito Grazie a tutti Grazie a tutti Mi abituerò mai a questo pedone Grazie a tutti A te vuole finire esercito Grazie a tutti 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 Grazie a tutti